Con l'amico Alessandro Castagnaro, presidente dell'Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti, siamo in questo posto particolare. A lui chiediamo un commento su questo evento di oggi e su quale futuro potrà avere questo posto magico della cittadinanza. L'augurio è tante attività attorno al Molo San Vincenzo e affinché Napoli possa riappropriarsi di un pezzo di territorio che si propende sul mare e che dà la possibilità di fruire della città dal mare e di poter godere anche un panorama che è unico. Purtroppo chiuso da troppi anni, come tante altre cose a Napoli, che sono dei beni non valorizzati. Quindi l'obiettivo fondamentale per cui la NIAI, il Propeller, la Lega Navale e tante altre associazioni riunite cerchiamo di riaprire questo posto eccezionale ai cittadini e a Napoli, nonché anche ai suoi turisti. Ci sono desiderato al Molo San Vincenzo e i miei. Perché devi riconoscere i miei. Vada, appena il ragione ha proprio uccanelata da Filippo. Deve riconoscere un rito di wood. No, no. Adesso che siamo un po' tempo. Ci si tracchiamo. E' un po' tempo. Ora, vai. Grazie. Grazie a tutti. 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 E' vero che in questo momento qua siamo nel territorio del territorio virtuale, però l'accesso ce l'ha garantito qualcuno. Grazie a tutti. 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 Grazie.